Salve, vai un giornalista, vi sto comando. Oddio, 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 c'è appena stata una scossa in diretta in questo momento, molto forte, molto forte, molto forte, una scossa potentissima in questo momento, sono passati da 1 o 2 minuti circa alle 17, Casola e Lunigiana. Incredibile, incredibile, stavamo registrando delle immagini dei danni che ci sono stati per le scosse dei giorni scorsi, da pochissimo la terra ha tremato con una violenza incredibile, sentiamo ancora la terra che sta tremando in questo momento sotto i piedi, è stata una scossa molto potente, molto forte. Molto forte, un boato e un rumore fortissimo in questo momento, in diretta, l'abbiamo registrato in questo momento.